Le primarie da centro-sinistra sono la massima espressione di democrazia che c'è all'interno dei partiti per la scelta del candidato Presidente Consiglio dei Ministri. Devo dire che come influenza in generale ce n'è ben poca dato che iscritti ne abbiamo 250 su 11.000 votanti che abbiamo qua a Campobello. Forse è dato l'influenza per quanto riguarda l'antipolitica, però io rispondo all'antipolitica che i mezzi per la democrazia nei due partiti ci sono, se poi il popolo non partecipa non è colpa al 100% dei politici. Bisogna ringraziare tutti questi ragazzi, giovani e meno giovani, che in maniera volontaria stanno gestendo sia l'ufficio elettorale che il seggio in maniera, devo dire, greggia. Giustamente, dato la proporzione dell'iniziativa delle primarie, c'è qualche disguido, però diciamo che nel complesso va tutto ottimale. Grazie 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 Grazie